Allora questa sera c'è un bel po' di gente, le luci ci sono tutte e c'è anche questa bella insegna luminosa della sala giochi, slot machine illuminata, quindi anche io adesso abbiamo anche questa innovazione, chiamiamola così, sarebbe da capire se hanno anche l'autorizzazione perché a me francamente questa cosa non piace moltissimo sinceramente